Allora 22, 23, 24 luglio, alta felicità, vi aspettiamo numerosi e io in particolar modo penso di adottare la Fiorella Mannoia perché è tutta la vita che la tengo nel cuore sia come cantante che come come persona mi raccomando cercate di venire numerosi che vedremo di fare la moltiplicazione dei panni e dei pesci vi aspettiamo Fiorella mi raccomando Grazie a tutti